Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi con un giorno di anticipo arriva di prepotenza SBADAN! Il primo teaser ufficiale della season numero 8 ragazzi! Incredibile, un'immagine, uno sfondo rosso con ben scritto Fortnite Season 8! E se andiamo nelle notizie di gioco, appare disponibile anche qui! Stagione 8, la X segna il punto, un tesoro appare, il bottino che perdi potrai ritrovare! Quattro giorni alla stagione numero 8 ragazzi! Arriva il primo teaser ufficiale! E la domanda è, secondo voi questo teaser che cosa rappresenta? Fatemi sapere qua, nei commenti, il rosso può stare ad intendere, il fuoco si capisce ancora poco! Cercheremo di lavorarci su in questi giorni! Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like! Noi ci vediamo presto, anche coi prossimi teaser! Ciao! 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 Buongiorno! Grazie a tutti.